Concerà tantissimo entrare carichi in questo terzo periodo Ci mette una mano Pandolfi che è carico a molla Palla recuperata, Pandolfi da tre Dopo l'euforia di Kevin Pandolfi adesso prova a stoppare Lussa Che non perdona in risposta È stato difficile Pandolfi ma riesce Pandolfi da tre allo scadere ai 24 reali L'Alum, Pandolfi si libera, provettiva a due e realizza ancora Passata la palla in diagonale a Pandolfi che tira da tre Non avevamo dubbi e realizza ancora Mamma mia Kevin Ancora una volta lui Perdonatemi la metafora Serve un pianista, il violoncello, il violino Perché dall'altra parte c'è l'uomo con la chitarra E tu lo conosci molto bene Il mio Kevin Il mio, il mio Sì, Kevin la scorsa stagione ha lasciato un ricordo fantastico Perché oltre ad essere un ottimo giocatore È un ragazzo super sorridente È un piacere averlo sia in campo che fuori Insomma frequentarlo anche fuori dal campo È capitato che quest'estate ci avevo visti un paio di volte Soprattutto al locale da Antonio Smorto Sì, speriamo che la chitarra sia abbastanza scordata per sabato Lui conosce questi canestri Spero anche approfittando di questo discorso qua Di questi canestri diversi da tutti gli altri campi Che anche il loro buon lituano Non ci faccia Non faccia diciamo quello che ha fatto all'andata Ha tirato con delle medie Da Lega 2 Quindi insomma vedremo sabato Sono curioso Sono curioso innanzitutto di vedere noi Sappiamo che loro sono, ripeto, un'ottima squadra Però parte innanzitutto da noi Grazie a tutti